Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Mastercard. Io sono il Mastercard e il vostro ospite su questo canale. Il periodo delle feste volge al termine, quindi prima che quel minimo di volontà di mantenere i propositi per il nuovo anno sia sparito definitivamente, andiamo a parlare di qualcosa che vi renderà migliori come Master. Questa settimana andiamo quindi a chiudere il discorso iniziato con gli ultimi due video dell'arte del masteraggio parlando di qualcosa che il Master dovrebbe sempre tenere a mente e che i giocatori dovrebbero sempre pretendere da lui. Il fair play. Con fair play da parte del Master si intende tutta una serie di comportamenti che il Master è tenuto a osservare durante il gioco per evitare che il tutto si trasformi in uno show in cui il Master si diverte a torturare i personaggi e frustrare i giocatori, ma invece deve essere un'esperienza positiva per tutti quanti. Come prima cosa, anche se scontato, non fate favoritismi. Quando state masterando voi non avete parenti, amici, ragazze o chi che sia. Il successo, il fallimento dei giocatori dipende esclusivamente dalle loro scelte all'interno del gioco e dall'applicazione delle regole per come le state utilizzando. Forse meno scontato è il fatto di non favorire non tanto i giocatori, ma i personaggi. Capita che in una quest ci sia un personaggio che è particolarmente ben scritto, particolarmente ben interpretato, sia più divertente o che comunque vi piaccia più degli altri. Non fate l'errore di scrivere le scene in modo che siano più favorevoli a quel personaggio o impostare l'intera trama del gioco in modo da rendere lui il protagonista. Il gioco di ruolo è un'esperienza corale, non c'è un personaggio protagonista e dei comprimari, tutti i personaggi sono comprimari tra loro e il procedere della quest deve dipendere dalle azioni di tutti i personaggi e tutti i giocatori devono avere la possibilità di influenzare la narrazione con il loro personaggio allo stesso modo. Ho visto tantissimi, sia tra master che tra giocatori, entrare in una sorta di metagioco antagonistico gli uni contro gli altri. Questa è una roba aberrante. Il gioco di ruolo consiste nel raccontare una storia, affrontare delle sfide, mettere in scena un mondo coerente come vogliate volerlo, ma nel gioco di ruolo non esiste una condizione di vittoria. Voi come master non siete lì per sconfiggere i giocatori. Il vostro scopo è quello di rendere le loro avventure più interessanti. In linea di massima partite dal presupposto che tutti i mostri che mettete sono lì per perdere, tutti gli enigmi per essere risolti, tutte le sfide per essere superate. Non incafonitevi sul voler rivaleggiare contro i personaggi. Non è questo il vostro scopo. Non mettete sfide impossibili da essere superate, non mettete mostri troppo forti, non mettete situazioni che sono trappole senza via di uscita, semplicemente perché così vi sentite più intelligente o vi sentite più forti dei vostri giocatori. Il vostro scopo è quello di far vivere a loro la loro avventura, non dimostrare quanto voi abbiate più potere di loro all'interno del gioco. Un comportamento del genere non serve ad altro che a causare contrasti all'interno del gruppo e non farete sicuramente cambiare idea o cambiare modo di gioco a un vostro giocatore scendendo al suo livello, questo toglietevelo dalla testa. Cosa molto importante, date sempre la possibilità ai giocatori di capire quello che stanno andando ad affrontare. Indipendentemente da quale sarà la situazione di gioco, la sfida in cui i personaggi, i giocatori verranno coinvolti. I giocatori devono avere sempre la possibilità di capire in anticipo cosa sta per succedere e di potersi organizzare di conseguenza. Se gli avventurieri stanno per andare a esplorare il relitto dell'astronave aliena impostata da mostri carnivori, mettete vicino al portello all'ingresso dei cadaveri dilagnati con evidenti segni di mostri. Se stanno per arrivare nel regno del tutti i maghi vengono bruciati come eretici, fate in modo che il mago del gruppo ne sia informato da un qualche png o che abbia la possibilità tramite le sue conoscenze o tramite le sue ricerche di saperlo prima di arrivare nel regno. I personaggi devono sempre avere il modo di equipaggiarsi e organizzarsi e non essere in balia del fatto di quello che succederà. Anche perché se cogliete costantemente di sorpresa i personaggi per il puro gusto di coglierli di sorpresa, per il puro gusto della trop teatrale, molto velocemente il vostro party capirà che non ha senso organizzarsi, non ha senso equipaggiarsi e semplicemente smetteranno di farlo. Ultimo ma non ultimo non interferite con le scelte dei giocatori. Il vostro scopo è quello di dare a loro gli strumenti per superare le sfide, di creare il mondo di gioco in cui le loro avventure avvengono e dagli tutte le condizioni che gli permettono di andare avanti con la narrazione. Se poi loro queste cose non le accettano o non le colgono non sono fatti vostri. I giocatori devono avere la possibilità di approcciarsi al gioco nella maniera che loro preferiscano. Se gli abitanti del villaggio gli hanno detto che nella foresta c'è un branco di lupi e che attaccano i viandanti durante la notte e i giocatori decidono che i loro personaggi si accamperanno senza tenere un fuoco acceso, senza mettere qualcuno di guardia, fregandosi negli avvertimenti, fateli sbranare nel sonno dai lupi se la sono andata a cercare. Se il gruppo fa delle scelte che lo portano a delle conseguenze negative, voi andate avanti con la vostra storia, sono stati loro a scegliere di affrontare la cosa con le cattive. A volte può risultare difficile restare con la bocca chi usa davanti a delle palesi scelte errate da parte del party. Normalmente queste cose iniziano con un nano che dichiara una carica. O magari le scelte dei giocatori vi scombinano delle scene che vi eravate già preparato e portano la quest in direzioni improbabili. Non vi preoccupate, la quest va avanti, quelle scene potrete riutilizzarle in seguito, potete riutilizzarle in un'altra quest, non vanno buttate e il fatto di dover improvvisare per far rientrare la quest nei binari perché i giocatori hanno fatto delle scelte imprevedibili non sarà altro che per voi un allenamento su quando dovrete realmente improvvisare per altri motivi. Alcune di queste cose naturalmente richiederebbero delle trattazioni molto più lunghe, ma diciamo che come discorso di carattere generale per ora va bene così. Non voglio dover dividere anche questo video in due. Questo video dovrebbe comunque spronarvi a riflettere sul vostro stile di masteraggio e fin tanto che siete ancora immersi nello spirito del nuovo anno magari spronarvi a cambiarlo se c'è qualcosa che sbagliate o che comunque è soggetto a limiti di miglioramento. Se avete domande, dubbi o perplessità lasciate un commento dell'area qui sotto e fatemi sapere anche come voi vi approcciate al masteraggio, quanto lasciate ai vostri giocatori la possibilità di organizzarsi e quanto fate favoritismi o se vi è mai successo che qualcuno smaccatamente vi favorisca o favorisca qualcun altro del gruppo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo al prossimo video!